No, ma insomma, Misty-U! Che cosa sta succedendo? Opaline, se fai così, non vedo! Misty, presto fa qualcosa! Mi uva! Ezza ci sono! Opaline, puoi anche lasciarmi andare? È tutto a posto! Mi spieghi? Cosa stavi? Facendo Misty? Porca d'utismo? Oh, ecco! Non mi ascolti mai! Ciò che ti avevo chiesto di fare... ...per ottenere più informazioni sulla magia dei cristalli e su come funzionano. È ancora quello che vuoi, vero Opaline? Sì, beh... Sbrigati! Bene, andiamo! Oh, ehi là, Bunnycorn! Non fate caso a me! Buon appetito! Aiuto! Questo non l'avevo proprio calcolato! Qualcuno ha cercato di rubare i cristalli! Certo, ma chi è? Per quale ragione? Forse il vetro è caduto da solo! Che c'è? Potrebbe succedere! Devo ammettere che è emozionante! Sembra quasi un vero mistero, non pensate anche voi? Emozionante? Un pony ha provato a rubare i cristalli che ci hanno restituito la magia! Emozionante! È un vero disastro! Zipp ha ragione! In quanto alicorno, è mio preciso dovere proteggere i cristalli e tenere tutti i pony di Equestri al sicuro! Scusate il ritardo! Sparky ha trasformato le mie chiavi in uno sciame di api e poi ho dovuto prendere un po' di miele per... Beh, fa nulla! Che mi sono perso! Sei arrivato giusto in tempo, Itch! È il momento che io diventi l'alicorno di cui Equestri ha bisogno! Ma per riuscirci mi servirà l'aiuto di tutti voi per esercitarvi! Ok, Sam, mi ripeti con me! Sono superforte! Sono superforte! Ho fiducia in me stessa! Io sono l'alicorno! Io sono superforte! Ho fiducia in me stessa! Io sono l'alicorno! Sani, è stato incredibile! Non ho mai visto un'alicorno così veloce! Coraggio, dimmi qualcosa a proposito di quei cristalli misti! Perché ci stai mettendo così tanto a rubarli? È una storia divertente! Che cosa è stato? Ehi, c'è qualcuno qui? Meglio andarsene subito! Ti racconterò tutto più tardi, Opaline! Che vuol dire che mi racconterai tutto più tardi? Ho sentito qualcosa provenire proprio... Da qui! Quel cespuglio si è appena spostato! Non dire sciocchezze, Itch! Hai di certo avuto un'allucinazione! Insomma, i cespugli non si... Guardate! Sta scappando! Oh, no! Oh! Ehi là, Sunny! Eh, Misty! Oh, meno male! Sei solo tu! Pensavo fosse un pony pericoloso! Guardate, pony! È solamente Misty! Ciao, ciao, Misty! Ciao! Sono la vostra vecchia amica Misty! Come voli bene, Sunny! È stato uno spettacolo, scusate! Ora devo andare! Arrivederci, Misty! Vecchia amica? Io non ne sarei così sicura!